E ora, miei amici, ho trovato qualcosa per ricordare di come è stato. Quando sei un figlio è facile. Non fai fai di provare, di dare. Lo fai solo perché ti piace. Quindi, miei amici, il mio consiglio è di farlo sempre, farlo meglio e farlo con stile. Grazie per la visione!